E perché volesse invece vederli durante un concerto? Può venire qui in provincia di Ancona nell'ultima settimana di giugno e ad ascoltare i concerti del Festival Cantare Lontano che oramai da 9 anni si chiama il Corpore del Nato per vi proporre questa antica tecnica locale. E noi adesso abbiamo il privilegio di ascoltare. Sì, vi facciamo ascoltare il beato studio da 5 voci di Ignazio Donati per noi, per sentirlo come si deve, possiamo scendere di sotto. Andiamo. Arrivederci, sapete il posto. Arrivederci.